A queste elezioni amministrative e regionali avrete visto che ad esempio in Toscana c'erano due falce martello, due partiti comunisti. Noi siamo il partito comunista. Il PC ad esempio in Toscana ha avuto una buona affermazione, ha raggiunto quasi l'1%, però è lo stesso partito che a Gianzano, che è un paese importante dei castelli romani, 20.000 abitanti, ha avuto un'affermazione ancora più significativa, importante. Il candidato sindaco Borri ha avuto quasi il 14%, la lista l'8%, bene, però cosa fa questa lista al ballottaggio? Questa lista fa l'accordo politico col PD, sì col PD, una falce martello che poi va col PD, è un accordo politico che probabilmente gli frutterà un assessore, magari frutterà il presidente del Consiglio Comunale, ma è la fine di un'idea comunista. Il Partito Democratico è il nostro nemico, perché è nemico come la destra. La destra ha fatto la legge Maroni, la sinistra ha fatto il Job Act, ha cancellato l'articolo 18. Il Partito Comunista non può essere in alcun modo alleato col PD. Adesso io non so, spero, questo PCI di Alberesi forse espellerà queste persone di Gianzano. Noi lo faremmo, noi cacceremmo chiunque facesse un accordo col PD. Vedremo, però ricordatevi, il Partito Comunista è autonomo ed indipendente, col PD non può avere più nulla a che fare, perché il PD e la destra sono due facce della stessa medaglia, la falce martello del Partito Comunista non si deve mischiare mai più col Partito Democratico.